bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi nonostante abbiamo già caricato il video sulla patch 12.30 beh volevo provare insieme a voi il nuovo oggetto presente in game il paracadute ragazzi ovviamente non è difficile capire quale sia la sua funzione dovrebbe appunto salvare il giocatore dai danni da caduta e allora lo proviamo subito insieme ragazzi facciamo una scala che sia ovviamente letale qualora ci cadessimo lo prendiamo in mano e ci proviamo non funziona così non funziona così non funziona così aspetta aspetta ok ok non è un paracadute non è un paracadute calmi calmi che non c'è da ridere non c'è da ridere riproviamo riproviamo non funziona così funziona così a questo punto oh shit devo riprovarlo no vabbè ma che figata ma che figata un secondo che sto prendendo del tempo perché devo fare un'altra registrazione ma che morì no il mio paracadute mi ha distrutto il paracadute un secondo riproviamolo no vabbè adesso sono in risa squadra ovviamente posso aprire il deltaplano comunque ragazzi davvero molto simpatico molto molto cari non lo distruggere ok molto ignorante molto carino una delle novità appunto inserite in questa patch 12.30 vabbè ragazzi io vi ringrazio per avere guardato questo video parlo con i ragazzi che sono in live da me su twitch non non abbiate paura perché non me ne sto andando noi ci vediamo in live di là ciao 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 ciao